Stavolta mi sento in colpa. Che cosa è successo? Un mio carissimo amico qualche giorno fa mi ha chiamato dicendomi che lo spazio disponibile sul disco del suo notebook era in esaurimento, che lui aveva una grande quantità di foto e di video su questo disco che avrebbe voluto spostare altrove. Naturalmente il mio suggerimento è stato quello di acquistare un bel disco capiente o magari due per avere sempre una copia di backup e trasferire tutti quanti questi dati sul disco esterno da collegare alla bisogna nel momento in cui avesse voluto visualizzare queste immagini o questi video. E lui così ha fatto. Ha acquistato questo disco, lo ha collegato, ha iniziato a trasferire i dati e mi ha chiamato dicendomi che gli sembrava strano che ci potesse mettere addirittura tre ore per fare il trasferimento. Gli ho spiegato che tre ore non sono un tempo stratosferico considerando che si trattava di diversi tera di dati ma gli ho chiesto che tipo di disco avesse acquistato e quanto lo avesse pagato. Beh la sua risposta è stata che ha fatto un affaraccio perché ha acquistato due dischi da 5 terabyte e li ha pagati 35 euro ognuno. Eh sì lo so, eri già a conoscenza di questa truffa ma magari non conosci i dettagli. Quello che è successo è stato che durante il trasferimento questo si è interrotto bruscamente perché naturalmente il disco aveva una capacità inferiore che è stata raggiunta in un tempo relativamente breve e lui ha perso una parte dei suoi dati perché si trattava di un taglia in colla e soprattutto ha perso questo disco qui. E allora mi ha chiesto come fare a salvare almeno il disco per quello che era lo spazio originale e soprattutto a ripristinarlo visto che aveva smesso completamente di funzionare. Ebbene il disco è qui e quindi andiamo insieme a fare questa operazione. Ma approfittiamo anche per andare a vedere come si effettua una formattazione a basso livello e come possiamo testare la capacità reale di un disco prima di incorrere in questo tipo di errori. E allora se ti senti pronto iniziamo. E' già da un po' di tempo che su internet va di moda questa truffa. Alcuni malintenzionati acquistano delle periferiche di scarsissimo valore e soprattutto di scarsa capacità ne alterano i firmware con dei software che purtroppo si trovano su internet e li fanno sembrare molto più grandi di quello che sono rivendendoli ad un prezzo decisamente maggiorato. Purtroppo questa truffa sta prendendo sempre più piede e ci sono molte persone sempre in azione a falsificare queste periferiche. Ma come possiamo fare a difenderci da questo tipo di truffe? Beh naturalmente il primo consiglio è quello di acquistare tutto quanto il materiale da fornitori certificati ed il secondo è quello di diffidare di periferiche magari anche blasonate con marchi importanti e capacità molto elevate che vengono venduti a dei prezzi davvero irrisori come nel caso del mio amico perché altrimenti puoi stare tranquillo che la truffa è dietro l'angolo. Come promesso tuttavia esistono degli strumenti che sono in grado almeno di farti recuperare la reale capacità di queste periferiche ed anche e soprattutto di testare delle periferiche che ti capitano tra le mani nel caso in cui tu non sia sicuro della loro reale capacità e quindi andiamo subito a procurarci questi strumenti che sarà utile tenere in un pendrive nel momento in cui avremo bisogno di utilizzarli. Per farlo come sempre andiamo ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca digitiamo come sempre gentiluomo digitale. Effettuiamo la nostra ricerca ed andremo ad aprire il primo risultato ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it Una volta aperto il sito ci porteremo sulla sezione downloads e scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare quelli che ho chiamato i disk tools. Clicchiamo sul grosso pulsante azzurro file download e vedremo che partirà un download di minuscole dimensioni che verrà scaricato molto rapidamente. Facciamo doppio clic sul file compresso per andare ad aprirlo e quindi potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Il primo strumento che andremo a provare è quello che si chiama HDDLLF che sta per Hard Disk Drive Low Level Format. Naturalmente questo strumento non è utile solamente per gli hard disk ma sarà in grado di formatare a basso livello anche i pendrive. Ma che differenza c'è tra la formattazione a basso livello di cui tutti abbiamo sempre sentito parlare e la cosiddetta formattazione invece ad alto livello? Ebbene, il primo tipo di formattazione cioè quello ad alto livello o anche formattazione rapida è una formattazione che va semplicemente a cancellare la FAT e tutto quanto l'indirizzamento del disco. La FAT, altro non è che la FileAllocationTable, cioè una porzione del disco dove c'è scritto dove si trovano tutti quanti i file contenuti all'interno dello stesso. Di fatto quindi è agevole capire che i file contenuti nel disco non vengono realmente cancellati con una formattazione ad alto livello ma semplicemente il disco non sa più dove si trovino questi file. La formattazione a basso livello invece è una cosa diversa ed ha cambiato il suo significato nel corso del tempo. Diciamo che adesso come formattazione a basso livello si intende il cosiddetto zero fill, ovvero ogni singola porzione del disco viene riempita con degli zeri, rendendo di fatto il disco completamente illegibile. Nel nostro caso la formattazione a basso livello è un tentativo che si fa per andare a recuperare un disco che, come vedremo tra qualche secondo, è completamente illegibile perché ne era stato alterato il firmware, cioè quel chip che contiene le informazioni relative alla sua capienza. Andiamo quindi a trascinare il primo file sul desktop, dopodiché andremo ad inserire il nostro disco danneggiato. Ecco fatto! Se tuttavia andremo ad aprire il nostro esplora file, il disco, seppur collegato, non sarà mostrato nel nostro PC. Ed il motivo è che, avendo superato la sua capienza, lo abbiamo mandato in crisi e questo non viene più nemmeno riconosciuto come partizione attiva. Se infatti andiamo a cercare la situazione delle partizioni del disco, vedremo che il disco risulta non allocato, sconosciuto e non ha neppure una lettera di unità. In questo caso, anche andando a cliccare con il pulsante destro, non sarà possibile creare un nuovo volume su questo disco. L'unico dato positivo che è emerso è che la sua falsa capacità di 5 tera è stata ridotta alla capacità reale che comunque è un rispettabilissimo mezzo tera, cioè 500 gigabyte. Andiamo quindi a chiudere questo programma che purtroppo non ci può aiutare e andiamo ad aprire invece il nostro programma HDD LLF per provare a formattare a basso livello questo disco. Come vedi questo programma può richiedere una licenza a pagamento oppure essere utilizzato gratuitamente. Se scegliamo di continuare gratuitamente, l'unica limitazione sarà la velocità con cui andrà a formattare il nostro disco. Selezioniamo quindi il nostro disco, cioè quello con la capacità di 500 gigabyte e clicchiamo sul pulsante continua. Si aprirà questa finestra in cui potremo scegliere la voce Low Level Format e potremo procedere con la formattazione del dispositivo che ti preannuncio durerà davvero parecchio tempo. Clicchiamo quindi su Format This Device, verremo avvisati e quindi attenzione se vai a fare una formattazione a basso livello perché naturalmente tutto il contenuto del disco sarà irrimediabilmente distrutto. Confermiamo con Sì e attendiamo il termine dell'operazione. Ok, la nostra formattazione è terminata con successo e ti garantisco che è durata davvero un'eternità. A questo punto possiamo chiudere la nostra finestra e tornare a vedere com'è la situazione nella gestione del disco. Ti faccio vedere questa volta la procedura completa da fare che consiste nel cliccare qui in basso sulla lente di ricerca e digitare Crea e Formatta le partizioni del disco. Ecco qua, non è neanche necessario terminare di scriverlo che compare la voce che ci interessa. Andiamo ad aprirla e vediamo che questa volta ci verrà automaticamente proposto di creare una nuova partizione per questo disco che è tornato ad essere utilizzabile. Clicchiamo sul pulsante OK per procedere con la creazione della partizione stessa e una volta fatto potremo anche andare a cliccare con il pulsante destro, creare il nuovo volume semplice, cliccare su Avanti, lasciare tutto quanto come si trova in questa finestra e cliccare nuovamente su Avanti, scegliere di assegnare una lettera di unità in modo che potremo vederlo nel nostro Esplora Risorse, cliccare ancora su Avanti, lasciare in genere tutto quanto come si trova, altrimenti potrai cambiare ad esempio il tipo di file system, cliccare su Avanti e finalmente sul pulsante fine. In pochi secondi il disco verrà formattato, questa volta ad alto livello e diventerà nuovamente utilizzabile nelle nostre risorse di sistema. Ed infatti eccolo qua, volume E con una capacità di circa 500 GB. Due precisazioni velocissime. La prima è che non sempre purtroppo la formattazione a basso livello è una panacea e va a risolvere il problema, perché dipende dal modo in cui è stato alterato il firmware del dispositivo, ma per quella che è la mia esperienza, in un buon 90% dei casi, non so esattamente perché, ma la formattazione a basso livello va a risolvere il problema. La seconda precisazione è che questo è un metodo alternativo per risolvere il problema anche delle periferiche non leggibili per altri motivi, quindi dei pendrive USB che abbiamo guardato anche in un altro video e laddove fallisca il primo non è detto che questo non possa avere successo. Quindi ti suggerisco sicuramente di provarci. Ma adesso andiamo a vedere anche come comportarci nel caso in cui abbiamo il sospetto che siamo stati vittime di un raggiro e ci abbiano rifilato un pendrive farlocco facendoci il gioco delle tre carte. E tutto questo naturalmente prima di andarci a riversare dei dati su con il rischio gravissimo di perderli. La carta rossa vince, la carta niente perde, vedete? Questa è tutta puntata, il gioco è fatto. Questa! No, questa! È in partenza, binario 6. Per fare questa piccola magia utilizzeremo il secondo programma che abbiamo scaricato, ovvero quello che si chiama Validrive. Prendiamolo quindi e trasciniamolo sul nostro desktop per poi farci doppio clic su ed andare a lanciarlo. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema cliccando su Sì e clicchiamo sul pulsante Check USB Drive. Ci viene richiesto di disinserire e successivamente reinserire il nostro pendrive. Andiamo subito a farlo. Veniamo informati prontamente che è stata rilevata la rimozione del nostro pendrive e andiamo quindi a reinserirlo. Dovrai attendere alcuni secondi e vedrai che il nuovo disco o pendrive che abbiamo inserito verrà rilevato. A questo punto dovremo semplicemente fare clic sul grosso pulsante Validate this drive. Come vedi parte una calibrazione rapidissima al termine della quale viene convalidato l'intero contenuto del nostro pendrive. A questo punto non ci resterà che cliccare su Close con la sicurezza di avere un pendrive oppure un'unità disco affidabile. Nel caso in cui ci fossero degli errori di lettura, di scrittura oppure che si tratti proprio di un pendrive farlocco, vedremo comparire anziché tutti i quadratini di colore verde, degli altri quadratini di colore blu, giallo, oppure nel peggiore dei casi di colore rosso. Cliccando infine sul pulsante Close ci verrà presentato un rapporto completo relativo alle dimensioni, tipologia e stato di salute del nostro dispositivo, in modo da non cadere anche noi nel insidiosissimo inganno della cadrega. Buona questa cadrega. Mi raccomando massima prudenza nel momento in cui vai ad acquistare le tue periferiche su internet, soprattutto se ti capita di farlo su siti diciamo non esattamente canonici, oppure se le offerte che trovi hanno dei prezzi così bassi da risultare diciamo poco credibili. E veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono per Nevermore Creations, che altri non è se non il vecchio amico old gamer Darty che si è riabbonato al canale con il suo nuovo alias. Un altro benvenuto va ai gatti di Brescello che hanno elevato il livello del loro abbonamento e quindi sono entrati di diritto a far parte della community dei distinti gentiluomi. E quindi mi levo ancora una volta virtualmente il cappello di fronte a loro. E l'ultimo ma non ultimo ringraziamento è quello per Fausto De Santis che ci ha regalato un generosissimo super grazie di cui gli siamo estremamente tutti quanti molto grati. Ma sai bene che c'è sempre un altro ringraziamento in attesa ed è quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo mi taccio. Ma non prima di averti salutato e dato come di consueto appuntamento. Alla prossima!